Un pasticcio che nei prossimi giorni aumenterà di intensità e grado a parlare il centrodestra che commenta e analizza i fatti che hanno portato all'azzeramento della giunta di Pescara. Il sindaco Marco Alessandrini dichiara pubblicamente quello che ha definito tagliando di governo, ma non rende noti i nuovi nomi. Sulle cause del gesto si parla di dissidi interni al partito. Noi leggiamo sicuramente un attacco verso una parte del PD che non si è schierata con quella parte di sindaci che in ACA hanno in qualche modo contrastato la precedente gestione degli anni che vanno dal 2013 al 2015 che la gestione che invece il centrodestra in qualche modo ha aiutato a concludersi è che è una gestione che ha risanato l'ACA così come abbiamo detto nei giorni precedenti. E' stata annunciata per la prossima settimana la fumata bianca, ancora non è stato definito il giorno esatto e quello che inizialmente vedeva coinvolte due quote rosa ora si traduce in un dilemma più allargato. Chissà chi, chissà al posto di chi e poi ci sarebbero anche i perché. L'incapacità del sindaco di gestire una fase del genere perché oggi si parla sul giornale di un incontro con il Vescovo, si parla di nomi che in qualche modo poco hanno a che fare anche con la storia del centrosinistra, si parla di una situazione poco chiara. Ecco, un sindaco che a metà mandato vuole fare un tagliando come lui ha detto in consiglio comunale della sua giunta, si presenta con una idea chiara e opera in maniera netta, non lascia aperti giorni, settimane per la definizione di questi aspetti.